Gianni Picone, sindaco di Campobello di Licata, in questi giorni la Sicilia e la provincia di Agrigento stanno vivendo la pagina più buia nella storia per quanto riguarda l'emergenza rifiuti, pattume ovunque, cosa sta accadendo e come si può risolvere questa vicenda? Purtroppo in questo momento siamo in una fase in cui il sistema dei rifiuti in ambito regionale è collassato. Noi come comuni di Campobello, ma la stragrande maggioranza dei comuni della Sicilia, si va a scaricare rifiuti a Lentini e raggiungendo una capienza giornaliera che è fissata per la discarica, tutto ciò che è in più deve ritornare indietro i combattatori. Quindi purtroppo si è verificato che alcune giornate i combattatori ritornano indietro e c'è questo accumulo in mezzo alle strade. Per esempio oggi, ieri non è riuscito a scaricare, oggi è scaricato, però i comuni di Palma di Montechiara e altri comuni non sono riusciti e quindi rimane sempre più rifiuti a terra. Siamo in una fase emergenziale, quindi l'appello che faccio ai cittadini che hanno la ragione mille per mille di lamentarsi, perché comunque il cittadino ha ragione, perché dinanzi a un costo spropositato e il costo del servizio della spazzatura, si trova con la spazzatura a terra, è inconcepibile e non trova nessun tipo di giustificazione. Ma il problema è che non dipende dal comune di Campobello dedicato. Oggi, alla luce di una direttiva che ci ha mandato il presidente della regione, l'altro ieri, siamo nelle condizioni di svolgere un piano di emergenza della raccolta differenziata, in cui il secco deve essere vietato di converirlo all'interno dei cassonetti. Quindi l'appello che faccio ai cittadini in questi giorni qual è? Cercare di, la plastica, il cartone, il vetro, l'alluminio, di non metterlo in mezzo all'umido, quindi buttarlo nei cassonetti. Se si ha la difficoltà di raggiungere il centro di raccolta, il camme che si trova alla Divina Commedia, che a giorni apriremo tutto il giorno, mattina e pomeriggio, quando meno appoggiarli ai cassonetti, non buttarli all'interno. Quindi cercare di selezionare i rifiuti, in modo tale da cercare di portare meno rifiuti in discarica. Mi auguro che la prossima settimana si possa raggiungere i livelli di normalità, perché dovrebbe forse, dico, riaprire, così ci dicono, la discarica di Siculiana. Quindi ritornare in questo discarico, quando meno allentare i rifiuti che vanno allentini. Ma capite bene che un autocombattatore, che dopo aver fatto la raccolta, arriva allentini e ritorna indietro, cioè si sta andando fuori da ogni spesa, ogni controllo della spesa, e non sappiamo di tutto questo alla fine come finirà. Una cosa è certa che tutto questo porterà a lievitare ulteriormente i costi del servizio. E questo non trova nessun tipo di giustificazione, almeno ancora oggi. Questo purtroppo, e dico e me ne duole, in quanto è un governo che ho sostenuto, il governo Crogetta, è mancato una regia per quanto riguarda i rifiuti. Continua a mancare l'impiantistica, quindi se non c'è l'impiantistica non si riesce a farla differenziata. Se non si fa differenziata si va nelle discariche. Le discariche sono sature e quindi c'è questi rifiuti che purtroppo sono a terra, come Campobello, come Canicattì, come Palma, come Licata e tante altre realtà. Ci sono degli interventi tambone in qualche comune, ma è sempre temporaneo, non è risolutivo dell'intero problema. Mi auguro che i cittadini, come prese anche chi ha l'attività commerciale, collaborano in questa fase di emergenza per cercare di differenziare il più possibile. Nell'attesa devo dire che oggi il Comune di Campobello ha presentato tutte le carte all'Urega per fare la gara d'appalto. Lì dipende dall'Urega quando dovrà svolgere la gara d'appalto e finalmente andarcene da sole con il servizio di porta a porta.